Ho ascoltato le dichiarazioni della professoressa Tarsi, allora di cosa parliamo? Non si deve preoccupare perché parliamo di una variante urbanistica e non è che bisogna annullare niente, se uno le cose non le vuole non le fa perché noi siamo persone responsabili e il processo arriva dopo le elezioni. Però va spiegato una volta per tutte e diciamo le cose per nome e cognome e non diciamo bugie. Qui non si toglie nulla al pubblico, è una scelta che la regione ha fatto di portare una clinica convenzionata, quindi gratuita per i cittadini e noi stiamo dicendo che questa clinica la vogliamo fare a Fano, non è che Fano decide se si fa o non si farà. Allora chi è contro dice che questa struttura non la vuole portare a Fano, la vuole portare in un'altra città. Io non sono d'accordo, io voglio che si faccia Fano perché è un vantaggio per la nostra città. Chi vuole impoverire Fano vada in quella direzione. Questo il sindaco che fa gli interessi di questa città non lo permetterà, poi se saranno altri si assumeranno le loro responsabilità. Questa è un'opportunità per la città. Una volta per tutte sono stanco sempre di ribattere a notizie infondate, sbagliate, alcune volte inserite proprio con la volontà di non dire le cose per quel che sono alla gente, magari per cercare di accappararsi qualche voto. Sui 50 posti di ortopedia? Sì, anche questo diciamo la verità una volta per tutti. Quella scelta è stata fatta con la precedente amministrazione. Quei posti sono stati trasferiti nel 2014 e allora chi dice, chi fa questa affermazione le deve fare verso se stesso perché in quel momento non c'era questo sindaco. E poi diciamo ancora un altro aspetto fondamentale. Certe questioni si parla di CUP, si parla di liste d'attesa. Per carità noi le rivendichiamo, poniamo le questioni ma sono di competenza regionale, non sono di competenza comunale. Quando non si hanno argomenti è chiaro che è difficile attaccare un sindaco che ha fatto tantissime cose per agitare sulle grandi questioni, ha dato a tutte delle risposte. Si cercano alibi su competenze che non sono specifiche delle comune. È come se dovessimo parlare di forze dell'ordine, di organico del commissariato, dei carabinieri, della polizia stradale che sono una competenza del ministero. Guarda caso, proprio su questo vorrei dire, ricordo sul distaccamento della polizia stradale, ordinanze, interrogazioni, ordini del giorno. Oggi che al governo ci sono altri rappresentanti che, guarda caso, sono il riferimento di coloro che facevano tutte queste iniziative, sono diventati muti, non ne parlano più. Allora bisogna essere seri.